l'apologo di menenio agrippa tratto dal testo la storia di roma a burbe condita di tito livio voce di marisa vacca breve cenno storico nell'antica roma i cittadini erano divisi in due classi i nobili chiamati patrizi e il popolo lavoratore chiamato plebe i patrizi dopo aver cacciato i tarquini da roma concentrarono tutto il potere nelle loro mani si spartirono la maggior parte della terra e del bestiame a danno dei plebei come erano chiamati i componenti della plebe i quali finirono per indebitarsi e diventare spesso schiavi dei creditori i plebei si sentirono ingiustamente sfruttati e completamente esclusi dalla partecipazione alla vita politica della città poiché non potevano più tollerare le loro precarie condizioni di vita idearono una forma di protesta tanto insolita quanto clamorosa rifiutarono la chiamata alle armi contro i bellicosi equi che minacciavano i confini del lazio e lasciarono roma ritirandosi in massa sul monte sacro al di là del fiume aniene a circa tre miglia fuori dalla cinta muraria si creò così una grave situazione dagli esiti imprevedibili i patrizi furono assaliti da molteplici timori da un lato capirono che senza l'importante contributo della plebe non erano in grado di fronteggiare l'imminente guerra dall'altro non sapevano come comportarsi con i plebei temevano inoltre che gli elementi plebei rimasti in città potessero insorgere provocando gravi disordini su un punto tuttavia furono tutti d'accordo bisognava trovare il modo di riconciliare con le buone o con le cattive la plebe con lo stato decisero allora di inviare sul monte sacro dove nel frattempo i plebei si erano fortificati con trincee e fossati il senatore Menenio Agrippa che tutti conoscevano per le sue notevoli capacità di abile oratore e che poteva essere ben accetto agli insorti perché di origini plebei si racconta che accolto nelle postazioni dei plebei in rivolta riuscì a ricondurre tutti all'ordine raccontando con garbo ed intelligenza questa semplice e toccante storia era l'anno 494 avanti Cristo inizio dell'Apologo c'era un tempo in cui nell'uomo tutte le parti non si accordavano con le altre come se fossero una sola ma ciascuna si regolava autonomamente con un suo particolare modo di comportarsi accadde che le altre parti si indignarono perché ogni loro faticosa attività andava a vantaggio dello stomaco mentre questo se ne stava inoperoso nel mezzo del corpo a godersi tutti i piaceri che le altre parti gli procuravano così organizzarono un complotto contro di lui per punirlo fu deciso che le mani non portassero più il cibo alla bocca che la bocca respingesse quello che le veniva offerto che i denti non triturassero ciò che ricevevano dopo poco tempo lo stomaco per la fame cominciò a star male come era stato previsto nei piani delle altre parti ma anche esse cominciarono ad indebolirsi gravemente e con esse tutto il corpo giunse ad un gravissimo stato di sfinimento generale risultò allora chiaro a tutte le parti che lo stomaco non se ne stava in realtà in ozio a godersi come un parassita il lavoro altrui ma svolgeva un suo specifico ruolo e che non era alimentato più di quanto non nutrisse restituendo a tutte le membra del corpo opportunamente distribuito attraverso le vene il sangue necessario per la vita proveniente dalla digestione del cibo la morale del discorso tenuto da Menenio Agrippa risultò subito chiara per tutti plebei e patrizi dovevano restare strettamente uniti perché reciprocamente legati da comuni interessi svolgevano infatti ruoli differenti ma entrambi indispensabili e vitali per la sopravvivenza dello Stato la situazione fu velocemente ricomposta furono avviate delle trattative che portarono all'istituzione di una nuova importante carica politica quella dei tribuni della plebe che poteva essere esercitata soltanto da esponenti della plebe e che conferiva grande potere di controllo e di opposizione contro i consoli i plebei appagati dall'importante riconoscimento lasciarono l'accampamento sul monte sacro e tornarono a Roma riprendendo le loro usuali occupazioni che si vede a un'istituzione che si vede a un'istituzione che si vede a un'istituzione che si vede a un'istituzione